Un saluto dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, come sempre sono in ottima compagnia insieme a Fanny Britt e Isabella Arsenault, spero di aver pronunciato correttamente, per Luis e i suoi fantasmi, non so se notate il cartello grande, ma anche il libro che è bellissimo qui davanti a noi. Ringrazio anche l'interprete che ci darà una mano perché appunto le autrici sono francesi. Innanzitutto una curiosità, questo è il secondo libro che scrivete insieme, chi appunto scrive la storia e chi la illustra. Com'è nata la vostra collaborazione? Avant l'écritura di nostro primo libro, Jane Lerenard e moi, nostro éditeur a Montréal, che è anche il marito di Isabella, mi ha proposto di scrivere un libro per loro edizione. Moi, io scrivo delle pezze di teatro, ma non avevo mai scritto di libri di romanzo grafico. E mi ha detto, io ti lascio scrivere il libro libero, ti fai veramente come tu hai carte blanche. E poi, io credo che ho qualcuno con cui ti chiede per fare questo libro, per illustrare questo libro. E una volta che il mio testo è finito, mi ha detto, io penso che il mio instincto è buon, io vorrei lo passare a Isabella Arsenault. E là, Isabella l'ha luo e poi lei ha deciso di andare in l'aventura. Allora, ci ha dato Jane Lerenard e moi. C'è come questo che ci siamo conosciuti. Prima di Jane, ho sempre scritto pièce teatrali, poi un bel giorno un editore di Montréal, la PASTEC, si è rivolto a me, proponendomi di scrivere un libro per ragazzi, per bambini, e dandomi carta bianca. Io ho accettato, a patto di poter terminare la scrittura prima che fosse illustrato, e così è stato, ho terminato e solo alla fine mi hanno detto, guarda, l'illustratrice sarebbe Isabella Arsenault, Isabella l'ha letto, le è piaciuto, ha deciso di illustrarlo e così ci siamo conosciute e da lì è nata la nostra collaborazione. Tra l'altro c'è un mix tra scrittura e illustrazione davvero perfetto, riesce a rendere in maniera eccezionale i sentimenti dei personaggi e delle vicende. Chiedo a Isabella come riesce a entrare così tanto in un testo scritto da qualcun altro. Moi, je suis très inspirée par les mots des auteurs avec qui je travaille. Les texti, souvent, sono porteurs d'images, e poi, lorsqu'ils m'inspirent, c'è facile, après, di creare 10 visuels per chacun dei texti. Ma particolarmente, le mots di Fanny, diciamo, sono molto immagini. Donc, per me, in lisant questo, ogni frase, ho ho molti idee in mente per l'illustrare. E quindi, per Jane, si è fatto molto facilmente. Per lui, mi lavoravo più forte, diciamo, perché c'era un secondo, e poi ci avevano un po' di 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 un libro che aveva già già veramente funzionato. Quindi, non ne volevo capire questa volta, ci volevo riusciare anche. L'histoire era su diversi niveaux, quindi era più complesso da illustrare per me, ma il testo di Fanny è sempre molto inspirante, quindi per me è davvero un piacere di sviluppare autour di questo. Per me l'ispirazione la trago da quelle che sono le parole degli autori. Sì, con Fanny fin da subito ho visto che le sue parole mi creano delle immagini in testa, sono molto visive, quindi appena ho iniziato a leggere quello che scriveva già avevo mille idee su come illustrarle. Con lui in realtà da un lato già conoscevo Fanny e quindi è stato più facile, dall'altro in realtà la storia è stata più complessa. Ma comunque mi sono trovata a essere veramente molto ispirata da quello che leggevo e così avete visto il risultato. Un ottimo risultato, devo dire. Tra l'altro è un libro molto particolare perché riesce a mettere insieme la delicatezza ma la profondità. È una riflessione sulla famiglia e sui rapporti umani molto profondi ma narrati in maniera diretta e semplice e davvero riesce ad arrivare a un pubblico ampissimo, non solo ragazzi ma anche adulti, io credo riescano a percepire la forza di questo testo. Vorrei capire come è nata in lei l'idea di parlare dei rapporti familiari, dei genitori, dei figli, ma anche la fragilità degli adulti, in questo caso vista dai bambini, in questo caso da lui che è il protagonista. In effetti, noi quando lavoriamo, Isabelle e io, non stiamo a pensare a pensare a pensare a un pubblico cible, ma solo a pensare a un pubblico cibo, con tutti gli umani che entrano in contacto con il nostro libro. Quindi, partendo da l'ora, io credo che ci sono dei temi che mi interessano sempre, dei temi della fragilità, della forza, come dire, come la forza può prendere delle forme che sono differenti di quelle che ci siostrano... Per gli ragazzi, per esempio, la forza è di essere invincibile, di non avere le faiblessi, di protegere gli altri, di tutto prendere in charge, di non doutare. E poi, io avevo voglia di proposare altre cose, io avevo voglia di proposare che la forza, al contrario, sia di dimostrare che abbiamo dei dimenti, che abbiamo bisogno di aiuto, che abbiamo sensibile, che abbiamo, che abbiamo una fragilità in questo amore. avevamo un po' di rinversare i rôli tipici garzoni e figli. Quando sia io che Isabelle, quando creiamo i nostri libri, cerchiamo di non pensare mai a un pubblico target, a un pubblico mirato. Cerchiamo di connetterci con tutto quello che è l'umanità, gli esseri umani, con cui poi il nostro libro entrerà a sua volta in contatto. Per quanto riguarda la fragilità e la forza, sono due temi che mi interessano da sempre. Quello che cerchiamo di comunicare è che la forza possa anche essere diversa dall'idea che sia di forza più convenzionale. quindi possa prendere forme differenti. Ad esempio, nel caso dei ragazzi maschi, alle volte si tende a pensare che la forza sia associata all'invincibilità, al prendersi carico di tutto, a non avere mai dubbi. Invece, quello che vorremmo comunicare è che la forza è anche essere sensibili, è anche ammettere di avere dei dubbi, ammettere di avere delle fragilità, amare. Questo per noi è la forza. E traspare veramente benissimo dalla storia e anche dalle immagini. Tra l'altro so che Isabel ha in corso proprio qui a Bologna una mostra dove è possibile vedere tutte le sue opere. Noi abbiamo avuto modo di vederlo già nei due libri insieme a Fanny e anche in quello di Benedetta Bonfiglioli in attesa di un sole. Non vediamo l'ora di vederla anche dal vivo. Che cosa ne pensa di questa mostra? E come la senti? Io sono un po' di passi per l'intérêt che ho presentamente al Salon. Per me è troppo. l'intérêt di rinforzare di rinforzare di rinforzare in un po' di rinforzare e rinforzare di rinforzare la solitudine. Perché è meraviglioso ma è come un rave. C'è è certo che che il rinforzare che il rinforzare di rinforzare ma è di rinforzare di rinforzare di rinforzare per me è di rinforzare essere qui alla fiera per me è un po' come essere dentro un sogno da un lato voglio che continui e dall'altro è tutto molto emozionante troppo, troppa attenzione e un po' mi manca la mia solitudine da illustratrice in realtà ieri ero presente all'apertura della mostra a me dedicata, non posso che dire che gli organizzatori hanno fatto un lavoro incredibile con le tavole che ho inviato e sono veramente emozionata e sconvolta nel vedere tutto questo io posso dire di essere molto felice di fare quello che mi piace e cercherò di continuare a farlo e io ho fatto un'ultima domanda per entrambe se stanno già lavorando a qualche cosa di nuovo lo so che è appena uscito questo ed è prematuro ma noi lettori siamo così quando ci piace qualcosa vorremmo subito altro da leggere e da guardare beh, on envisage, on n'y pense, on n'est pas sûr, ma on pense poter fare una petite serie per un bambino un po' più jeune a partir del personaggio di Funghetto, il suo figlio di lui perché è un personaggio che l'abbiamo molto, che ci donne plein d'idee non c'è ancora niente di sicuro ma ci piacerebbe in futuro riuscire a creare una piccola serie ispirata al personaggio di Funghetto che voi avete conosciuto all'interno di lui e i suoi fantasmi per bambini un po' più piccoli rispetto a questi lettori la cosa ci tranquillizza intanto ancora tutti in alto mare noi siamo già contenti così lascio a voi un'ultima volta il microfono se volete mandare un messaggio ai vostri lettori italiani io penso che ci sia una sensibilità comuni tra le lettere e le lettere e le lettere le lettere, le lettere, le lettere, le lettere, le lettere e le lettere e le lettere e la sensibilità italiana è ciò che ho ho visto da una settimana abbiamo una emotività similiare un rapporto alla musicalità della lingua e l'emotione della bambina davant la beauté. Alors, j'espère que ce lien-là va se tisser et s'approfondir entre les auteurs québécois et les lecteurs italiens. Moi, je veux juste remercier tous les Italiens que j'ai rencontrés au cours de la foire, qui sont venus à nos présentations, qui ont participé à mon atelier. J'étais vraiment émue de les rencontrer, ces gens-là, tellement talentueux. Je trouve que vous avez vraiment des bonnes écoles d'illustration à Bologne particulièrement, mais en Italie en général. Les illustrateurs ici sont vraiment talentueux. J'ai beaucoup d'artistes que j'admire qui sont ici. Je me sens vraiment privilégiée. Je regarde les autres livres qui sont à la foire. Je me sens très choyée d'avoir de l'attention pour mes livres à moi parce que je vois les livres des autres et c'est vraiment incroyable ce qui se fait ici. Donc, merci au public italien. Oui, j'espère qu'on va continuer à vous faire des livres que vous allez aimer, apprécier. Quello che Fanny a notato da quando est ici est que la sensibilité italienne et la sensibilité du Québec, des personnes du Québec, comme les deux autrices, selon elle, est très simile. S'est-à-dire pour les émotions que nous provons davanti au bello, et pour la musicalité de la langue, mais il y a vraiment un collègue entre le mode de émotions de l'italien et des canadés et des canadés du Québec. C'est-à-dire qu'il y a des canadés du Québec, et c'est-à-dire qu'il y a des canadés du Québec, et c'est-à-dire qu'il y a des canadés du Québec. Perché intorno a lei vede tantissimi illustratori bravi e tante scuole italiane molto molto competenti in termini di illustrazioni e si sente scelta, si sente felice di quello che sta accadendo e spera che questa collaborazione, questo collegamento si approfondisca e continui nel tempo. Grazie a tutte a questo punto e grazie anche all'interprete se ci vuoi ricordare il tuo nome, Sandra. Benissimo! E appuntamento al prossimo anno magari con un altro libro, chi lo sa. Ciao a tutti!